No, no, puoi bere quello che vuoi, Presidente. Tu hai preso qualcosa di cosa ho detto? Sì, 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 non tutto, però... Poi toglie le pescherie, cosa... Come te la dici la cosa? Oh, alla favola di tutti. Allora, alla favola di tutti. E anche la mente degli assetti. Allora, gli assetti la stiamo di perdere. Allora, adesso la stiamo di perdere. Però adesso io mi sono scordato la cosa che dice, ma la scusa che i padroni poco, ma molto in gradocia la cosa. E me l'ho scordato di dare l'intervenuto in questo gruppo come Presidente a mio cognato. Ma sarà perché è mio cognato? Ma è il treno, il treno. No, è un quaderno di noi, ma con la casa c'è dentro. Ma poi faccio vedere che sta a fare, Cine. La sua vera, che sta a fare. Comunque, siccome il mio ritardo era dovuto al fatto che mi avevo intrattenuto con Daniele, il sindaco, mi ha pregato di dire che lui purtroppo oggi mi ha la fama. Stanno giambando, stanno giambando, stanno in piena campagna elettorale. Però, però, ha detto, guardate, io starò sempre vicino a voi, perché ci stiglia la faccia, l'anno scontato di giù, spero pure in futuro. E ha detto, è come se lui ci fosse. Perché io gli avevo detto al limite, basta a pittare un caffè, ma ci sta a canzare, quindi va bene. Ma questo era solo per dire, dopo non lo bagniamo. No, non lo bagniamo. Non lo bagniamo. Non lo bagniamo. Non lo bagniamo. E' bene, e' bene.